Appara, pupì, prepara la metà cacà, gostoso come açaí, prepara la metà cacà, gostoso come açaí Fate sentire il vostro calore, forza! Speriamo solo di lasciarci lo spazio, la via è abbastanza stretta, noi con i vestiti che siamo abbastanza larghi, via, si date con i vestiti, forza! Speriamo! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!